1,2,3,4,1,2,3,1,2,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,5,1,2,3,4,1,2,3,1,2,1,2,1,2,3,4,1,2,3,1,2,1 Il sedicesimo è distaccato, un articolazione, due articolazioni, dopo due battute E poi torni dietro E poi torni dietro Tipo 1,1,2,1,2,3,1,2,3,4,5,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,1,2,1,2,3,1,2,1,2,3,1,2,1,2,3,1,2,1,2,3,1,2,1,2,1 Tra due barre arriverà al battito Quindi il 5 non lo ripeti Quindi il 5 non lo ripeto E poi stiamo ammatori In questo questo modo Asi come semplice Ci sta dentro? Beh, grazie Esi? Perché è un'accusa E 3 E' una cosa 4 over 5, 4 su 5, un disparito, ti regalo la simmetria che bellissimo, è una tachicardia, è fantastico, non è semplice il tempo.